Che cos'è lo Smart & Dynamic? Lo Smart & Dynamic è questo cilindretto che contiene all'interno una molla al titanio, eccolo qui, che si chiama memoria di forma, che può essere applicato tranquillamente a tutti gli ottimizzatori di cottura che abbiamo con il sistema fisso. Eccolo qua, questo è il sistema fisso, questo è il sistema Smart & Dynamic. A cosa serve? Per questo brevetto abbiamo l'esclusiva ed è un indicatore di temperatura. Cosa significa? Quando si solleva questa calotta ci indica che la pasta, ad esempio, è andata e partita l'ebollizione e quindi possiamo abbassare la fiamma. Stessa cosa per i legumi, per le verdure, per gli effetti forno. Molto utile anche nel caso delle fritture, perché quando si solleverà la calottina ci dice che la frittura è a metà. Qual è l'altro vantaggio? In tutti i casi della cottura con Smart & Dynamic abbiamo meno contaminazione batterica, meno emissioni di CO2 e un'ulteriore riduzione dei tempi di cottura, perché partiamo con la calotta con i fori abbassati. Molti mi chiedono, Joe, ma io ho il coperchio classico, quindi questo tipo qua, posso inserire lo Smart & Dynamic rendendolo nuovo, innovativo? Assolutamente sì. Infatti lo Smart & Dynamic è caratterizzato proprio da questo barilotto con la molla all'interno al titanio memoria di forma, la nostra calottina poi viene inserito qui all'interno e ancora comprende la vite e il pomello. Tutto questo kit è universale e si può abbinare tranquillamente ai coperchi che già avete a casa. Quindi perché dovrei scegliere Smart & Dynamic? Perché la nostra azienda è molto attenta alle esigenze del cliente che ci dice ma quando è che devo abbassare la fiamma? Come faccio a capire? Devo cucinare un ciambellone, ma quando devo abbassare la fiamma? Proprio quando la calottina si andrà a sollevare. Quindi scegli Smart & Dynamic, innova il tuo vecchio modello di ottimizzatore di cottura, è universale, lo puoi applicare a tutti assolutamente i diametri, quindi ridurrai ancora di più i cattivi odori, i tempi di cucina e poi, come dire, siamo in questo modo all'avanguardia e camaleontici al mercato che è in continuo cambiamento. Scegli Smart & Dynamic, contatta subito la tua incaricata.